Siamo arrivati al momento di parlare dell'uso del testo nei supporti visivi, nelle slide. E voglio iniziare condividendo con voi qualcosa che mi accade dal 1996, da quando ho iniziato con Successful Presentation. Normalmente chiedo ai partecipanti di dirmi che cosa hanno osservato nelle presentazioni di altri che secondo loro non funzionava bene, che non gli è piaciuto. E sempre c'è almeno una persona, ma spesso di più, che mi dice, beh, troppo testo nelle slide, proprio no, non mi piace. Ed è interessante perché la maggior parte dell'audience dice di non amare le slide con troppo scritto. Ma allo stesso tempo un grande numero di presentatori tende ad avere slide con troppo testo, quindi in qualche modo i conti non tornano. Sappiamo tutti che usarne troppo riempire di...